Aio! Ehi, vuoi fare silenzio, Baloo? Ma... Aiaiaiai, mamma mia, che dolore! Aiaiaiai, sta tirando degli assi! A noi! Sembra proprio che sia così! Ve l'avevo detto io! Ormai è uno di loro! Khan ha ragione, aiuto! Dobbiamo ritirarci! Ragazzi, non possiamo arrenderci così facilmente! Ripensandoci bene! Addio, caro Luigi! Beh, senti, questo non era esattamente quello che avevo in mente, caro Luizio, ma è stato molto divertente! È vero! Molto divertente, sì! Solo ho cercato di essere d'aiuto alla mia nuova famiglia! Mamma mia! Ah, Luizio, sono così orgogliosa di te che ho deciso di farti cercare la mia cena personalmente! Ah, sì! Grazie mille, mamma, è un'ottima idea! Fred, Jed, Ned... Che cosa state aspettando? Aiutate vostro fratello! Devo cercare di arrivare a quegli alberi! Forza, cerchiamo da mangiare, ragazzi! Quella è mia, Ned, io lo sapevo che l'avrei trovata là sotto! Che sono un banchetto, l'ho trovata io! Lasciala! Lasciala, è mia! No, è mia! Questi babbuni sono proprio degli animati! Già, è vero, e farebbero qualunque cosa per il cibo! Che idea! Ecco, così andrà bellissimo! E ora ci vuole qualcosa che mi stuzzichi! Termiti! Che schifo! Ma a loro piacciono! È perfetto! Perché non mi dici quello che hai trovato, Luigi? Stai parlando con me? Oh, buono, non è niente, ragazzi! Ti consiglio di darmelo immediatamente! Sì, e anche a me! Anch'io ne voglio un po'! Ma veramente li ho trovati io, e sono solo queste tre piccole zucche! Tiene, sempre di ottima... Termiti! Termiti! È mia! È mia! È mia! È mia! È mia! Ehi, se ne sto andando! Prendiamolo! Forza! Ned, vallo a prendere! E vuoi che lasci tutte queste termiti? No, signore! Vallo a prendere tu, Fred! Non se ne parla! Vacci tu, Jeff! Ragazzi! Grazie per la vostra ospitalità! E mi raccomando, scrivete! Grazie, Luigi! Mi stava per colpire! Non c'è problema, Kat! Siamo amici, giusto? Tieni! Tocca a te, Kenny! Sapete, ho sentito anch'io la vostra mancanza! Allora, ci sono delle domande, ragazzi? Sì, io ne avrei una! Mi spiegheresti perché ci hai tirato quelle ossa! Sì! Non è stato carino! Purtroppo non avevo altra scelta! Quei terribili babboidi volevano torturarvi perché sapevano che volevate portarmi via da loro! Vi volevo solo proteggere! Questa, Luigi, mi sembra una spiegazione accettabile! Sì, anche secondo me! Lui! Ecco, stai attenti! Ragazzi, sono contento di essere tornato! Sì, è stato cantato! Grazie a tutti.